Le sardine sono arrivate anche a Verona. Si presenta così Piazza Isolo questo giovedì sera. Abbiamo sentito il commento di Matteo Tacconi, uno del gruppo organizzativo delle sardine veronesi, e Cibo, il noto writer, che ha portato in dono uno striscione. Guardandoci anche attorno abbiamo pensato che fosse sensato dare la possibilità a tutte le persone che in questo periodo vivono appunto l'entusiasmo di voler provare a pensare in un modo differente a quello a cui ci stiamo abituando, perché lo vediamo che e le dinamiche dei social e l'appiattirsi delle relazioni dal punto di vista sociale ci portano sempre verso un isolamento molto forte. Ecco, la piazza, essere in piazza oggi è l'esatto antibiotico per queste dinamiche di segregazione in fin dei conti, perché quello che accade è questo. Beh, innanzitutto sposo gli ideali, perché comunque da statuto sono una persona ottimista e contro la violenza e a partitica e di conseguenza le sardine hanno incontrato il mio statuto e i miei ideali. Per me era un dovere restituire qualcosa, so disegnare, gli ho fatto lo striscione.